Ciao, sono Michela Riera e interpreto Cata in Cata, i misteri della sfera. Catalina Perticelli, piacere, nuova allieva. Il messaggio principale di questa serie è molto positivo, perché ci invita a dare particolare importanza ai nostri affetti, all'amore, in modo da non diventare mai dei cloni insensibili e facili da comandare. Volevamo solamente aiutarti, Cata. Gli amici servono a questo, servono ad aiutarsi. Cata è una ragazza onesta, buona, che non è in grado di fare male a nessuno. È talentuosa, dolce, semplice e adora passare il tempo insieme ai suoi amici. Io e Cata abbiamo decisamente in comune l'affetto per la nostra famiglia e gli amici, e poi l'amore per l'arte, cantare, ballare, recitare e la personalità. Cata è così carina, ha tutto, ha tutto. Mi hanno selezionato per interpretare Cata, beh, attraverso un casting al quale partecipai e di cui mi aveva parlato un mio amico. E in seguito mi hanno richiamato per fare una preselezione, un callback. E la settimana dopo mi hanno detto che ero Cata. Tu canti divinamente, se mi potessi dare qualche consiglio sarebbe geniale. Io credo che la chiave sia non smettere mai di inseguire i propri sogni. Sei forte, Cata! Grazie! Un grande saluto a tutti i miei fan di Disney Channel!